Benvenuti traders, oggi ci addentreremo nei meandri di una delle strategie più interessanti e meno comprese riguardanti gli smart money e cioè la Fair Value Gap Strategy o FWG queste misteriose zone sui grafici che possono essere la chiave per sbloccare opportunità di profitto anche inaspettate e che siate sia nuovi nel mondo trader o veterani insomma di guerra come me queste strategie possono essere estremamente utili diventiamo anche noi dei trader smart money per un giorno come si identificano gli FWG, che cosa sono e come possiamo sfruttarli nel nostro trading pronti? Via! Benvenuti a tutti, bentornati in questo nuovo video, video di strategia video di corso da trader puro ragazzi, tra le altre cose questo è un video che è regalato tra virgolette dello sponsor di oggi che è BitGet, l'exchange di criptovalute che ormai avete imparato a conoscere alla perfezione ragazzi BitGet tra le altre cose è uno degli exchange che utilizzo anche frequentemente, ormai lo sapete da oltre un anno circa per la mia operatività di trading sui future perché è permessa diciamo l'operatività di trading sui future anche per chi di voi risiede in Italia quindi sostanzialmente è utile anche per chi vuole fare un tipo di operatività un po' più professionale. Tra le altre cose in questo anno e mezzo non ho mai riscontrato alcun problema da un punto di vista tecnico anche perché lo utilizziamo in Academy per la questione legata anche ai trading system automatizzati quindi operiamo attraverso l'utilizzo dell'API è un ottimo exchange anche a livello di liquidità non mi ha mai dato problemi anche durante i problemi durante i momenti di grande volatilità quindi lo consiglio da sempre insomma ma ormai probabilmente molti di voi lo conoscono vi lascio un link in descrizione ovviamente mi date una mano con il canale e fate caso anche alla promo o inserite anche nel link utilizzate quella con la promo allora per quanto riguarda invece questa strategia noi ne andiamo a parlare attraverso l'utilizzo di alcune slide e poi faremo degli esempi pratici sul grafico e già vi dico che questa puntata è la prima di un doppio episodio quindi è una serie tv alla Netflix e andremo a fare questa doppia puntata perché è una strategia interessante partiamo subito perché tra le altre cose c'è un case study che ho proprio fatto nelle scorse giornate materialmente sulla piattaforma di BitGet ed è rappresentato da Bitcoin in queste giornate che sono state di ampia volatilità ho utilizzato proprio questa tecnica dell'FVG per portare a casa una super operazione e vi spiegherò tutto vi farò vedere tutto in questo video come è stata creata perché e per come e per quando allora intanto andiamo per gradi utilizzando quelle che sono le slide e partiamo dalla questione smart money nel trading questa tecnica fair value gap ragazzi è una tecnica che viene ripresa dai concetti che sono definiti concetti appartenenti a smart money cioè le tecniche utilizzate dagli operatori che sono definiti operatori professionali del mercato quelli che sono professionisti del trading e degli investimenti grandi istituzioni grandi banche eccetera che hanno quindi tante risorse a disposizione che gli consentono di poter utilizzare delle tecniche estremamente evolute e molto più precise magari di quelle che possono avere i retail con i termini smart money quindi si ci riferisce agli investitori si riferisce diciamo agli investitori istituzionali come banche, fondi, pensioni, investimento, hedge fund, trade professionali eccetera però l'idea di seguire agli smart money che poi a noi interessa questo sostanzialmente ragazzi deriva da questo fatto cioè dal fatto che si presume che abbiano una migliore conoscenza e a volte anche una conoscenza può essere definita inside no? per le parti diciamo che riescono diciamo ad avere delle informazioni asimmetriche rispetto a noi cioè informazioni che magari noi non riusciamo a conoscere perché sono in una posizione privilegiata all'interno del mercato e che quindi possono prendere decisioni migliori di investimento ora se gli smart money sono delle persone appunto che riescono ad avere informazioni migliori delle nostre hanno più capacità tecnica perché sono preparati e formati in questo ambiente hanno più capacità tecnologica ovviamente seguirli significherebbe fare un miglior trading rispetto a quello che possiamo fare da soli quindi l'idea di usare le tecnologie, le strategie o studiare le strategie tipiche degli smart money deriva proprio da questo concetto dal fatto che in generale questa cosa non fa insomma una piega no? quindi hanno spesso migliori capacità tecnologiche tecnologiche ragazzi usano anche algoritmi di trading avanzato questo lo so anche a livello personale perché ovviamente anche noi utilizziamo degli algoritmi ma la nostra capacità di calcolo, la nostra potenza di sviluppo è cappata dalle nostre capacità economiche, da quello che riusciamo a fare eccetera e quindi ovviamente non possiamo certamente utilizzare i server di BlackRock per fare il nostro trading algoritmico e questo è ovvio quindi se identifichiamo quello che fanno gli smart money li seguiamo, miglioreremo le nostre strategie questa è l'idea di base ed è quella che utilizzano tutti quelli che sono i trader che abbracciano questa tecnica cioè quello di utilizzare tecniche derivate dagli smart money e che possono essere quindi apprese ed applicate anche dagli investitori retail c'è qui un paradosso insomma enorme perché è una tecnica se è solo per una parte io la riesco ad applicare allora vuol dire che in realtà c'è qualcosa che non va ma di questo poi ne appartiamo magari nella seconda parte del video quando andremo ad approfondire la questione comunque questa tecnica dell'FVG è una tecnica estremamente semplice che funziona moltissimo, molto spesso diciamo se gestita con cura ovviamente bisogna avere tanta esperienza e serve anche molta pratica comunque c'è poi anche da fare questo piccolo approfondimento cioè più semplice cercare di individuare cosa fanno gli smart money oppure meglio dedicare quel tempo a sviluppare migliori strategie operative per noi stessi anche su questo ci sono grandi dibattiti quindi come faccio a fare tecniche smart money se io non sono smart money quindi non ho quella tecnologia allora vuol dire che quelle non sono le tecniche e l'altra dibattito è forse è meglio che invece di spendere tempo a cercare di copiare gli smart money che magari non ci riuscirò mai perché cambieranno magari tecnica appena l'abbiamo individuata è meglio che sviluppo le tecniche per me il tempo sarebbe speso meglio tutte queste idee diciamo sono da approfondire e sono l'altra parte le critiche che vengono mosse a questo tipo di strategia allora tecniche di smart money sono sostanzialmente le tecniche di analisi fondamentale laddove è possibile per esempio nel settore delle crypto sapete bene che l'analisi fondamentale lascia un po' il tempo che trova e soprattutto va maneggiata con cura anche perché non c'è una serie storica che ci dà informazioni sul fatto che l'analisi fondamentale sia stata migliorativa in termini di rendimento per esempio rispetto alle altre tipologie di analisi già non le è neanche nei mercati classici a volte figuriamoci nel mercato delle crypto sicuramente è un'analisi che è molto importante ma anche estremamente dispendiosa appunto per questo è un'analisi che fanno molto spesso appunto gli smart money soprattutto nel mercato classico poi analisi algoritmica che invece è quella che si svolge attraverso l'utilizzo dei computer quindi analisi quantitativa con backtesting di strategie eccetera quella io la faccio da oltre 10 anni trading HFT i high frequency trader che sono delle tecniche utilizzate per andare a fare compravendita in lasti di tempo estremamente piccoli e sfruttare delle inefficienze di mercato quindi assolutamente impossibile da fare per chi non ha tecnologie ad altissimo livello perché serve proprio connessioni banda larga insomma estremamente potente computer estremamente potenti e anche addirittura vicinanza geografica a volte con i server dove i prezzi e i data feed dei prezzi vengono trasmessi arbitraggio questo insomma la conoscete per fare questa tecnica di vendita riacquisto della stessa cripto con prezzi differenti su exchange differenti quindi può succedere si fa arbitraggio market making è più o meno simile quindi creare liquidità all'interno di un exchange e quindi trarre profitto della creazione anche di queste cose poi swing trading che invece è una tecnica che è quella di tradare gli swing di alcune operatività solitamente settimanali barra mensili e sono quelle che utilizziamo anche noi in academy per esempio abbiamo sia le tecniche io utilizzo sia tecniche di trading settimanali che mensili proprio su bitcoin sfruttare le inefficienze del mercato anche questa è legata alla questione della psicologia del mercato sono queste ultime due che andremo a vedere oggi perché più o meno il concetto del fair value gap quindi di questa strategia che studiamo oggi è un concetto legato proprio all'inefficienza del mercato quindi uno sbilanciamento che avviene quando il mercato crea il punto di equilibrio tra domanda e offerta sostanzialmente è quello il concetto allora il prezzo sconta sempre tutto ma a volte si sbaglia se esistono delle inefficienze di mercato esistono perché il prezzo a volte esagera fa delle cose che vanno fuori no? da determinati schemi e quindi si crea un cosiddetto sbilanciamento fra gli equilibri di prezzi quindi si passa per esempio da un punto A a un punto B estremamente ampio quindi molto ampio come distanza in maniera molto rapida e veloce e questo crea un cosiddetto sbilanciamento perché il percorso naturale dei prezzi a volte potrebbe essere più lineare vorrebbe essere più lineare e magari questa cosa non sempre avviene vi faccio vedere per esempio l'ultima eccola qui per esempio l'ultima candela per esempio di Bitcoin che sta andando a disegnare questa zona di massimo proprio nella giornata di oggi quando sto registrando questo video guardate qui in questa struttura per esempio un eventuale sbilanciamento quindi un'accelerazione dei prezzi è stata abbastanza importante improvvisa riassorbita proprio dal mercato ve la faccio vedere in ambito dell'orario così si vede subito un po' di più questa questione qui c'è stato appunto proprio un'accelerazione poi riassorbita quindi in tutto questo si è andato a creare questa lineetta azzurrina che vedete che è proprio un fair value gap che si è andato a creare sulla parte ribassista per la velocità ma andiamo andiamo con calma su questi concetti allora il prezzo sconta tutto ma a volte si sbaglia quando il mercato esagera per esempio in un senso o nell'altro genera delle inefficienze che probabilmente andrà a recuperare e questo è il concetto che sta dietro quando i prezzi fanno un balzo un cosiddetto gap ampio e veloce si genera in pratica una inefficienza almeno secondo questa teoria dell'FBVG si ragiona in questo modo quindi deve esserci un gap cioè un gap non inteso come i gap di apertura e chiusura quando il mercato è chiuso e apre il giorno dopo ma un gap inteso in maniera di sbalzo di prezzo quindi un gap si intende uno spostamento del prezzo dal punto A al punto B molto ampio e in maniera molto veloce e repentina come quello che vi ho fatto vedere quindi non è il classico gap che si può creare quando abbiamo i mercati chiusi il sabato e la domenica nei mercati classici per esempio avete visto ogni tanto il CME quando quota anche Bitcoin crea questi gap e quindi si generano in questo modo diciamo questi gap che sono ovviamente dovuti alla chiusura del mercato in questo caso nell'FBVG il gap è considerato uno spostamento rapido e importante del prezzo questa tecnica quindi cerca di sfruttare queste inefficienze del mercato e viene anche definita tecnica dei vuoti grafici o zone poco scambiate in pratica il concetto è questo se io passo da un punto A a un punto B in maniera molto rapida e veloce per esempio immaginate Bitcoin che passa da 37009 più o meno come era pochi minuti fa circa ok? da 37009 va in 1-2 ore ad arrivare guardate qui a che livello in basso in pratica 35005 crea uno spostamento veloce che può essere definito appunto un gap un spostamento veloce e molto ampio in questo caso infatti si è andato effettivamente a generare una per value gap in questa zona anche se non è pulitissimo infatti a me non piace questo proprio FBG perché poi per esperienza ragazzi dovete sapere riconoscere anche quelli che sono le figurazioni che ti verificano ovviamente che sono migliori non sono sempre le stesse è un'area quindi di prezzo in cui qual è appunto il concetto di fondo di questo Tecnic FBG che è un'area di prezzo in cui il prezzo potrebbe ritornare in pratica perché si è andato a creare questo squilibrio quindi è un'area di prezzo in cui potrebbe esserci stato uno squilibrio temporaneo tra domanda e offerta non si sono trovati in pratica domanda e offerta c'era troppa offerta nel caso che abbiamo visto precedentemente rispetto alla domanda quindi c'era troppa offerta in questi punti non c'era domanda c'era un vuoto di domanda appunto un gap e si è andato a crashare il mercato creando questo super candelone quindi c'è stato uno squilibrio tra domanda e offerta tipicamente generato appunto da movimenti di prezzo vigorosi che non incontrano una resistenza o un supporto adeguato detto questo in pratica l'idea di trading qual è? il mercato tende a tornare a questi livelli per riempire il gap ristabilendo così un livello di equilibrio tra domanda e offerta allora questo è il concetto di fondo è sempre così? no se fosse sempre così sarebbe un bancomat e probabilmente così forse sì allora questo lo possiamo tranquillamente dire poi ci sono anche dei sistemi che ci possano dare una conferma nel fatto che quel movimento possa essere migliorativo o meno e questa cosa può essere abbastanza utile in questo caso per esempio vi ho fatto vedere questo gap che è disegnato qui adesso vi faccio vedere anche l'indicatore che potete utilizzare per trovare questi perveri gap se non li riuscite a visualizzare a livello visivo sul grafico in questo caso per esempio questo gap qui che si è andato a creare teoricamente ci porta all'idea che il mercato entro qualche ora dovrebbe andare a recuperare questa zona perché questa zona che si è andata a creare proprio in questa giornata è un gap un vuoto di domanda per essere precisi che ha creato un'inefficienza di mercato che a quel punto il prezzo potrebbe decidere di andare a colmare fate attenzione che questa cosa spesso non avviene alcuni fair value gap sono rimasti aperti ovviamente per tanto tempo questo perché perché alcune volte le accelerazioni dei prezzi verso una direzione non sono uno squilibrio di domanda ma sono semplicemente un riequilibrio di squilibri precedenti adesso è tutto un gioco di parole e quindi a volte i mercati vanno dove devono andare perché hanno sbagliato precedentemente quindi in realtà non stanno creando un fair value gap ma stanno riequilibrando una situazione precedente e in ogni caso l'idea di trading è quella possiamo sfruttare questi gap certamente sì perché se sappiamo che effettivamente c'è questa possibilità io qui in questo contesto posso andare a realizzare delle operazioni di trading che magari possono tenere in considerazione il fatto che questo gap può essere ricoperto quindi chiuso colmato riempito dai prezzi e quindi il prezzo mi può tornare intorno ai 37.000 per quanto riguarda bitcoin in questo momento questo è un fair value gap di brevissimo periodo quindi trading quasi intraday può essere utilizzato sia per trade su orizzonti temporali medio-lunghi sia per operazioni di trading su orizzonti molto molto brevi adesso facciamo subito l'esempio su bitget ragazzi che è proprio questo qui l'esempio che ho utilizzato io e vi faccio capire come è stato creato questo fair value gap e per quale motivo quindi analisi grafica come riconoscerli tra le altre cose la cosa più importante in questo contesto per questa strategia è l'analisi grafica individuare quindi gli spazi vuoti in cui il prezzo ha fatto dei movimenti significativi in breve tempo quindi bisogna saper analizzare un grafico vi faccio vedere gli esempi allora qui abbiamo due fair value gap che sono questi fair value gap in pratica di natura rialzista che sono uno e due che vedete qui in questa zona vedete una impennata del prezzo con questo long green candle molto pronunciata entrambe e si creano questi vuoti ora il mercato la teoria dice il mercato potrebbe tornare indietro a riequilibrare questi vuoti riempirli nuovamente questi invece sono di natura ribassista quindi si generano a fascia di ribasso e sono dell' stesso tipo quindi questa è una long black candle in questo caso red vabbè è rusezzo e si definisce black e in pratica è vedete ha una struttura di gap perché si passa da una parte all'altra in maniera molto pronunciata stessa cosa che ha fatto più o meno qui c'è da dire che nell'ottica specifica a me questo fvg ragazzi che vi sto portando in realtà mi non mi piace molto perché la precedente candela è non piccola quindi l'fvg è tendenzialmente chiuso tra due candele piccoline quella che vedete in questo caso è questa qui e quella successiva quindi di solito le due candele quella prima e quella dopo sono piccole sono piccole e dimostrano indecisione quindi in pratica è come se si passasse da un punto di equilibrio a un altro punto di equilibrio facendo un salto quindi un gap così per cui ci devono essere delle candele di solito un po' più piccole tant'è vero che anche se l'indicatore in questione porta questa candela in questo caso come un fair value gap vedete poi usare gli indicatori non è sempre facile perché magari l'indicatore è stato creato per indicarlo in questo modo però in questo caso io questo fair value gap lo diciamo escluderei allora ci sono delle conferme che possono essere utili per utilizzarlo poi nella seconda parte di questa lezione nel secondo video andremo ad analizzare anche queste conferme picco di volatilità volumi conferma ciclica importantissimo secondo me per la fair value gap la conferma ciclica la pratica e l'esperienza allora sono tutte cose utili intanto ci deve essere un picco di volatilità di solito è così i volumi devono essere teoricamente bassi quando si genera un fair value gap non importanti o comunque rapportati ai volumi del periodo devono essere generalmente più contenuti quindi non si deve generare un fair value gap un candelone con ampi volumi deve esserci un buco per esserci un buco devono esserci pochi volumi e quindi se c'è una spike di volume teoricamente quella non è una conferma poi c'è la possibilità di utilizzare delle conferme cicliche di cui oggi non parlerò perché sono più complesse ad esempio andare a utilizzare delle tecniche di trading associate al filtro ciclico per capire se effettivamente quel fair value gap può essere riempito più facilmente a più probabilità o meno si usa quindi l'analisi ciclica per fare questa cosa estremamente complesso solo per chi magari ha informazioni di analisi ciclica pratica esperienza invece vi aiuteranno tanto a comprendere questa cosa allora spostiamoci sul caffrico perché voglio farvi vedere quello che su bitgate ho realizzato proprio nella scorsa giornata per la questione del fair value gap ragazzi allora intanto vi apro quella che era stata il time frame che avevo utilizzato per questo tipo di operatività e andiamo a farla ok ragazzi allora si era diciamo aperta la finestrona allora in questo caso ragazzi la candela presa in considerazione è stata questa del 7 novembre del scorso ed era un fair value gap abbastanza evidente noi siamo andati a creare questa super candelona chiusa tra una candela piccolina e una che se l'è rimangiata un pochino ma non tantissimo in ogni caso questa zona qui io l'ho definita come fair value gap attenzione che quando fate riferimento a fair value gap che hanno un trading in questo caso di uno o due giorni quindi di brevissimo periodo la pulizia la precisione perfetta delle candele non la potete avere perché ovviamente si tratta di candele molto più rumorose quelle che appunto sono di natura di brevissimo periodo tra le altre cose qui vi ho detto un'operazione long short qui apertura e chiusura insomma dell'operazione che si intravede anche sul mio conto account di bitcat allora in pratica io cosa ho fatto ho atteso che il mercato ritornasse su questo livello per poter aprire un accumulo di posizioni long perché mi aspettavo che bitcoin continuasse poi la sua fase di risalita e ho utilizzato questa struttura questa candela per avere i prezzi dove entrare se non che nella giornata dell'8 di novembre ieri in pratica bitcoin è ritornato vedete sul suo livello di fair value gap in questa zona attenzione che io non sono dell'idea che i fair value gap devono essere colmati completamente non la penso così tanto è vero che in pratica in questa zona io ho iniziato poi una fase di accumulo questo perché ragazzi perché effettivamente poi ci sono delle scelte di natura operativa che bisogna fare e le tecniche di trading appunto necessitano anche di tante esperienze pratica quindi questa è una tecnica che ci indica la zona dei prezzi appetibili poi a livello pratico dobbiamo essere in grado di operare quindi utilizzando le tecniche se non che vedete i miei ordini di acquisto di bitcoin che sono iniziati in questo punto quindi qualche minuto dopo perché ho atteso che il mercato cercasse di scendere ancora un po' quando ho visto che il mercato riprendeva un trend alla risalita ho iniziato l'accumulo ben sapendo di doverne fare dover fare diciamo più acquisti in questo caso quindi qui sono stati i miei livelli di acquisto che sono tutti derivati dalla questione del fair value gap quindi io in pratica ho atteso l'arrivo nella zona del fair value gap poi il ricrearsi di una specie di trend al rialzo che come vedete si è andato a creare qui da questo primo punto poi qui perché è stato fatto un massimo intorno o superiore a questa zona qui ho fatto il secondo ingresso qui si è creato un minimo che era superiore al precedente quindi minimi e minimi superiori massimi e massimi qui simili uguali ma va bene così quindi altro ingresso in questa zona poi breakout questa volta confermato e quindi qui l'altro ingresso ancora dopo che il breakout era stato appunto confermato del massimo quindi appena è arrivata l'inversione ho chiuso il mio accumulo quindi ho fatto una parte una seconda parte una terza parte una quarta parte vedete che a livello statistico c'è stata proprio l'inversione di trend quindi ho cavalcato questa inversione di trend a questo punto io sono posizionato sulla fair value gap come punto di ingresso poi la strategia l'ho gestita attraverso dei miei modelli dei miei sistemi di trading ed è andata in stop pochi minuti fa su questa candela all'apertura di questa candela quindi vedete in questa zona qui intorno a 37.120 è andata a chiudere questa fase ora tutto questo profitto che è stato ampissimo ragazzi questo è un caso ovviamente così ampio però per spiegarvi in tempo reale visto che l'avevo fatta proprio in tempo reale guardate la posizione da dove arriva da qui e dove si è andata a chiudere in questa zona questa è una posizione che si è andata a creare con la tecnica del fair value gap esattamente ragazzi ok questo è importantissimo tutta gestita ancora una volta su bitget quindi ragazzi devo essere sincero mi ha gestito anche l'uscita come vi dicevo in una estrema volatilità creata attraverso dei modelli dei bot che noi abbiamo collegati proprio a bitget in academy e l'ha fatto quindi il bot in automatico ovviamente la strategia è la mia quindi comunque so che cosa fa quel bot mi gestisce le uscite quando voglio e soprattutto l'ha gestita con un ordine in ipi passato senza il minimo slippage quindi su questo bitget devo dire la verità cammina bene ma ultimamente tutti in poi gli exchange cripto sono migliorati da questo punto di vista detto questo quando un fvg si considera riempito quando il prezzo ritorna nell'area dove il gap era presente e crea volumi all'interno di quell'area quindi una volta che appunto come vi dicevo è arrivato in questa zona dove io avevo preventivato ha creato tutta questa fascia io poi alla prima in versione di trend ho provato la strategia del fvg ed è andata a segno in questo modo come tradare un fvg quali metodi possiamo utilizzare per trarre profitto da queste informazioni e quindi come andando tradati vi ho fatto vedere un case study in questo momento poi nella prossima lezione andremo a vedere uno l'acquisto per bilanciamento di un fvg di ribassista con la tecnica del controtrend e andremo a fare altri esempi pratici sul grafico ragazzi quindi questo è nel seconda lezione tutti gli esempi pratici qui vi ho fatto vedere un case study verificatosi proprio oggi chiuso mentre sto registrando ieri aperto quindi fresco fresco di giornata ma nella prossima lezione imperdibile facciamo tutti gli esempi del caso vi faccio vedere quelli rialzisti quelli ribassisti due tecniche che ci sono applicabili come ingressi agli fvg e poi traiamo le conclusioni del caso e mettete in saccoccia questa super strategia che vi assicuro è una strategia iper top e soprattutto adatta anche a trader già formati ragazzi quindi non solo a neofiti ma è interessante per i neofiti ma soprattutto utile per chi già sa dove mettere le mani cosa ne pensate fatemi sapere se già la conoscevate scrivetemi nei commenti lasciatemi i pollicioni ovviamente iscrivetevi al canale per non perdere gli altri video e ovviamente per non perdere la prossima lezione per value gap strategia smart money ciao ragazzi ciao